Musica Vorrei iniziare questa nostra conversazione di sabato mattina 23 marzo 2019 cercando di riflettere con te su come mai c'è questo rinnovato interesse per il corpo in psicoanalisi. Ti dico questo perché sia pubblicazioni tue come metà prigioniero metà lato, sia body mind dissociation, sia formless infinity, sia congresso della FEP e anche parte del congresso dell'international journal che si terrà a Londra, riporta all'attenzione il tema del corpo. Terrei differenziato l'aspetto di moda che investe il corpo in questo momento da quello che è l'interesse che ho avuto io poi a sviluppare in 40 anni di professione psicoanalitica, cioè dagli esordi, il tema del corpo come qualcosa più connesso alla clinica con cui mi confrontavo che non alle origini storiche della psicoanalisi. La tua attenzione è rivolta a un'analisi che lavora sugli aspetti profondi, strutturali, originari e cerca di combattere invece un'analisi intellettualistica vuota che si autoriproduce e che non aiuta veramente il paziente a riadicarsi in se stesso. Queste forme di pseudo elaborazione psicoanalitiche sono fortemente subdole, cioè l'analista può essere convinto di stare facendo il suo lavoro quando poi di fatto niente accade. Siamo in un'epoca dominata dalla televisione, dal cinema e dai media, per cui poi la psicoanalisi appare sui lettini dei film di Woody Allen oppure nelle trasmissioni di Intreatment e via dicendo. Oggi come oggi noi siamo a rischio di fare delle psicoanalisi che sono degli Intreatment televisivi e che non hanno nulla di autentico per il semplice fatto che si parla di complessi mentali in un contesto in cui il corpo del paziente è assente. Dal mio punto di vista c'è il rischio che poi entri nell'ombra fino a scomparire il problema di dov'è l'oggetto interno dell'analizzando, l'oggetto primario dell'analizzando, dove questo oggetto primario dal mio punto di vista è il corpo dell'analizzando. Cioè se non c'è il corpo e una qualche forma di dialogo corpo-mente non c'è futuro per quella psicoanalisi. Tu parli di un paziente psicotico cronico che hai seguito in varie riprese, in un momento in cui il paziente viveva molto ritirato, molto degradato, non si lavava più, non si puliva più, quindi era completamente immerso in questa psicosi. E tu rispondi dicendo nel momento in cui lei comincia a avere più coscienza di sé, si rende conto del tempo e quindi del numero di ore per tradurre in cui stai lì e anche di me. Un paziente che non si lava ha un problema urgente sul fronte interno, per cui non me ne importa niente che lui riconosca me come analista se lui non si accorge che ha un corpo che va lavato prima di tutto. Allora io tendo a stabilire nei miei interventi clinici e nel modo che ho di concepire la psicoanalisi clinica un criterio di urgenza e di priorità in relazione all'urgenza. La mia ricerca clinica mi porta a pensare che uno spostamento di attenzione al corpo in psicoanalisi porta ad un ribaltamento dei parametri tecnici psicoanalitici più assodati. Ci sono due modi molto diversi di concepire il corpo in psicoanalisi oggi. Un modo che tiene il corpo integrato in una tecnica psicoanalitica corrente riconosciuta e un corpo come leva che ci può portare a guardare alla psicoanalisi in un modo nuovo, più aperto al futuro e sintonizzato sulle necessità che ci portano i nostri pazienti attuali. In che modo la tua tecnica, se tu puoi parlare di tecnica, si differenzia dalla cosiddetta classica? L'approccio psicoanalitico tradizionale dal mio punto di vista dà per scontato un'integrazione corpo-mente che per quello che vedo io è tutt'altro che scontata nei nostri analizzanti attuali. Il concetto di patologia non è un concetto psicoanalitico ma appartiene più alla medicina o alla psichiatria. Parlerei più di forme disarmoniche e del problema di come poi si possono intrecciare corpo e mente in un dialogo che nelle sue connotazioni più estreme non è affatto un dialogo ma è una mutua estraneità. La differenza che io trovo rispetto a altri approcci è una immediata responsabilizzazione del paziente che mi sembra un elemento importante rispetto a non un classico accudimento-contenimento. Quindi il paziente è responsabilizzato rispetto a se stesso. Io considero l'analizzando corresponsabile della relazione analitica, cioè nel senso che la relazione analitica è una barca in cui ci sono due persone che remano. Se rema solo uno la barca gira in tondo e non si va da nessuna parte. Quindi, e questo io lo presuppongo anche per i cosiddetti pazienti regrediti, cioè nel senso che a maggior ragione che il paziente è regredito è necessario che metta in gioco da subito tutte le risorse dell'io che sono a sua disposizione. Perché solo la progressione può generare qualcosa di evolutivo. Non credo che la regressione porti nulla di costruttivo in analisi. Tu ingaggi il paziente in questo discorso di responsabilità verso se stesso e di responsabilità verso anche un ascolto di se stesso, del proprio corpo. Io non posso prescindere da un'istanza collaborativa di base in cui poi solo l'analizzando sa che cosa succede dentro di lui. Come dice un vecchio proverbio, il cucchiaio sa cosa bolle in pentola. Cioè il cucchiaio nella pentola ce lo può mettere solo analizzando. L'analista entra solo in seconda battuta rispetto a questa realtà. In che modo il corpo dell'analista ha una pertinenza? Il corpo dell'analista ha una pertinenza perché intanto stabilisce un nord della bussola per l'analista. Cioè nel senso che la psicoanalisi presuppone un assetto interno. Per esempio, nella mia esperienza, l'assetto interno si caratterizza con la presenza di flussi sensoriali, corporei, spostamenti termici all'interno poi della percezione corporea, che mi dà l'idea che io sono presente in seduta con il corpo e con la mente e che quindi non è solo un oggetto meccanico mentale. È un controtransfer corporeo. Lavorando con i pazienti difficili nell'esperienza analitica, Allora, la risposta dell'analista è una risposta totale che coinvolge la totalità dell'analista come persona. Nel senso che poi l'esperienza che noi facciamo con i nostri analizzanti ci accompagna sempre, non solo caratterizza l'ora d'analisi, ma ci accompagna sempre tutto il tempo. Allora, lavorando con gravi situazioni disarmoniche, l'analista può essere a rischio di una disorganizzazione psicosensoriale ed essere esposto anche a gravi incidenti di carattere fisico. Quindi è un lavoro un po' pericoloso. È un lavoro che può essere pericoloso se poi l'analista non è consapevole delle implicazioni di pericolosità del lavoro che sta facendo. Anche quando l'analista non sta lavorando, ha necessità di un radar interno che gli dica non solo cosa sente e dove lui sta, ma anche quello che lui si può permettere e che lui non si può permettere. Fare l'analista implica una grande responsabilità sul piano della gestione interna prima di tutto che su quella interpersonale. Per noi è importante avere una visione integrata dell'essere umano che coinvolga attivamente il corpo e quello che quindi non è mentale in un'elaborazione che è un'elaborazione di confine in qualche modo. C'è anche all'interno della psicanalisi una corrente che lavora col corpo nel senso che il corpo viene toccato. Ecco, volevo capire tu cosa pensi se è giusta questa suddivisione che viene fatta psicosi, psicosomatica, cioè se tu ti trovi d'accordo in questa differenziazione per patologie o se invece qual è la tua idea e cosa pensi anche di questa attenzione che a mio avviso cerca di recuperare qualcosa che il modello classico non riesce a vedere o non riesce a trattare. Io credo che il problema mente-corpo attraversa tutta la psicoanalisi ed è un problema centrale in tutti i trattamenti psicoanalitici. Quindi non credo che il problema mente-corpo riguardi i pazienti psicosomatici in modo specifico, ma la questione mente-corpo soprattutto oggi è una questione centrale in qualsiasi trattamento, anche nei pazienti che sembrano più integrati e quindi mi sembra un punto chiave dove la psicoanalisi può espandersi. Circoscriverla il problema psicosomatico a chi ha malattie psicosomatiche è a mio modo di vedere riduzionistico. Ti riprendo la famosa frase di Pasolini, stiamo assistendo a un cambiamento epocale, il cambiamento epocale riguarda il corpo perché non ci sono più degli individui, ci sono solo delle macchine che sbattono le une contro le altre, qualcosa che lui preconizzava nel 1975. Quindi è una trasformazione così profonda per cui il discorso delle patologie psicosomatiche è un po' riduttivo e anche in qualche modo non più attuale. Il problema del corpo investe in una questione epistemologica centrale nella psicoanalisi e quindi riguarda la psicoanalisi nella sua essenza primaria. Questo riferimento che fai a Pasolini è illuminante perché poi con grande capacità intuitiva Pasolini ha colto quello che era la linea di sviluppo della società attuale per cui poi questa trasformazione dell'uomo in macchina di per sé mette il problema mente-corpo al centro dello sguardo. Quindi questo tuo discorso dell'asse orizzontale e l'asse verticale come lo relazioni a questo discorso dell'uomo-macchina? Intendiamo per asse orizzontale appunto l'intersoggettività orizzontale e l'asse verticale la relazione corpomente. È chiaro che poi questi due assi sono strettamente correlati e questo investe anche se vogliamo un problema epistemologico e filosofico centrale che ha caratterizzato tutto lo sviluppo del pensiero umano che converge sui grandi contributi di due pensatori come Kant e Hegel dove Kant mette l'accento sul problema di creare un sistema in cui a priori e a posteriori possano incontrarsi e quindi tutto un problema che si muove sull'asse verticale dove Hegel pone il problema della dialettica, di come l'intersoggettività apre ad un sistema dialettico che porta ad un cambiamento continuo e ad un'apertura continua. Noi abbiamo bisogno di questi due assi per andare avanti anche se poi tenere conto di questi due assi implica un livello di grande complessità da rispettare. Grazie. Grazie. Grazie.